Eh Rage Hell Io purtroppo quella cosa non ce l'ho E mi rendo conto che è un grande svantaggio Perché la gente guarda molto Anche a quello giustamente Bisogna anche guardare anche alle proprie tasche E non soltanto a quelle degli streamer Quindi hai fatto bene Se ti ha fatto vincere i skin hai fatto bene Clipman Report Mannaggia Che poi la cosa è capito Non si capisce Non si sa come funzioni Non capirò mai Non capirò mai sta piattaforma E dire che è anni che ci sono dentro Non la capirò mai Lui da oscena Minchia Report Rout Games Non vi ha autoattacchi Cosa è successo Pierpa Una minima idea Puntatore rosso al centro E non vanno gli autoattacchi Cioè tipo così Comunque anche così Cioè va Quindi non avrebbe senso Guardi Tiberius Guardi senza pudore Veramente Vergogna Ah No è quell'autoattacco Me lo ritirà Adesso sono molto offeso Ma se era solo sabbantico Ok ma dopo una certa ora I ragazzini vanno a letto E rimangono solo i veterani Normale Ah non so come aiutarti Pierpa Io a parte Io tengo il ditino Perché sono troppo affezionato Al guanto Il guanto League of Legends Per me solo questo Deve rimanere Veleno contro veleno Sei mancato coi vol Viva la gnagna Grazie Skyfax Bentornato Prima la Felix Army Non penso di poter fare molto Contro Cassio Eh Oh Scusi lei venga un po' qua Eh Avevamo anche uno Havco Oltretutto Non se l'aspettava È stata presa In contropiede Eh Oddio La passiva Di Singed Skyfax Gentilissimo Ti dedico Sta kill E sto escape GG Per la passiva Di Singed Ma sì Andiamo con due di questi Cattivi proprio No dai Forse meglio le scarpe Così la prendiamo prima Sta bottana qua Contropiede La pacinotti Famosissimo Contropiede La pacinotti Minchia ci manca solo remake Meno male che non me ne sono accorto Sennò Stavo già bestemmiando Per la mancanza del support Che poi io sono sempre support A mancare Sempre qualcuno in bot Quale mi ha preso Scusami Sì ma non posso prenderla Ma che è Veramente indecente Cioè ma Cassio può perdere Contro un champion Sì l'ho appena fatto il culo Però Oh vai Prenditi un po' di veleno Sbissia via Ma porca puttana Le apro il culo Come un cazzo Di noce di cocco C'ha più un cazzo Oh oh Ecco Eeeh Bello Che bello dare fastidio Che bello questo c'è Un champ nato per dare fastidio Ragazzi Rendetevi conto Oh oh Occhio al fastidio Andiamo back Ha sempre l'aeronattiva È quello il fatto Non è che aveva l'aeronattiva Poi anche quando non ce l'hai È velocissimo Boh Sempre veloce Le faremo il culo Ragazzi Vai La build del signore degli anelli Si fa Non è più worth Come un tempo Quando il drag sail Era fucking OP Ha percato il fastidio Mamma mia Lux non può fare niente Eh lo so Lux Lo so La brutta vita Da utilizzatori di mana E non di mani Perché è Lux Quindi di certo Non penso Servano tante mani Oh oh Adesso attiva La suddetta runa Oh oh Eh To fast for polizia Vabbè Non scappa nessuno Spendi l'una che ti dà le scarpe E la cambia con un'altra Quella di fianco Non so dirti quale Quella di fianco comunque Sì non ti fa buttare la runa È come se prendi l'ex flash E non hai il flash E te la cambia con quella di fianco Ma si sta ricallando Niente Ciao F Sing da Mumu la farete mai Boh abbiamo fatto Quella ufficiale È a Mumu Mundo Quindi insomma Tu fast for polizia Vabbè Ormai ragazzi Ho preso il sopravvento Ormai ho preso il sopravvento Un po' più fardulla L'isp E' che ninja E' che ninja E' che ninja No Ladro 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 Vabbè Io la puzza Gliel'ho data Niente Mi accontenterò Ha flashato contro il muro Se vedete Non me ne sono nemmeno reso conto Perfetto Non abbiamo un altro qui Ma diamo un altro qua Di flash contro il muro Meraviglioso Il Singed Mid Comunque è qualcosa di speciale Il Singed Mid è veramente qualcosa di speciale No ho perso la prima plate Mannaggia Vabbè Prenderò a questa Sparca tutti E invece no Si invece GG Ok Onesta Onesta come un WCum Pra Che ti vende gli orologi falsi a 2 euro Betuzzi Benvenuto Nella Fierix Armi Caro Grazie tante Del sub Andiamo back Così E Così Vai Sono veramente veloce adesso Ricordate che la velocità è molto importante Su Singed Sapete che Quasi quasi le Twin Shadows First Light Non sono neanche male Dove è andata Cassia Ma per me non romma nemmeno Per me è proprio andata back Ah no invece no Almeno quello No Palle Ah mi prendo la red buff No Vabbè L'ammazza mondo Tu vieni qui Sbagliato skill Grazie Lux degli SS Meno male Adesso stiamo attenti Adesso che sappiamo che manca la botta Stiamo attenti Questi sono andato in istante Eh 12 a 3 effettivamente Stanno un pochino indietro Ho ho No Ciao sfigati Non sa cazzo dove è andata Ha sbagliato a tirare la pianta Ha sbagliato a tirare la pianta Impulita Se vi sono avvertiato l'autoattacco Perché voleva inseguirmi in qua E Però Non è passato il muro C'è pure morta Mamma mia 0 5 0 Non che abbia dato molti soldi Va Vieni Prendi per il culo gli Ivan Che non sanno saltare con le piante Anche tu se fossi Ivan Sbaglieresti a saltare con le piante Ecco Cacchio Mancherebbe così poco A prendere un'altra Olaf What the fuck Biatelo Quello là Ok Eh Eh Quanti flash Non riesco a muovermi Ero body bloccato da qualsiasi cosa Ero body bloccato da tutti Vado di Twin Shadows dai Eppure prendiamo altra Molina spirit Eh raga non è giusto Ma body bloccato i minion twitch Tutto c'era lì Anguri Infatti è quello che volevo prendere Il ghost con Singed No perché il flash è veramente importante Su Singed Perché fai quel Quel flash E Che è veramente Quando Quando l'iron medio Non se l'aspetta Non te lo fa il flash Cioè non riesce a scappare di flash Qui fai flash E Le ulti di Olaf ragazzi sono meme vivente Forse boh gli piace il colore rossa Per quello che è ultra Non lo fa con un criterio preciso Eh vedi 6-1 però Ecco qua Eh no Non chiudetela da soli Per favore Dai voglio usare Elemento in shadows Ma se voi state lì Non Ah 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 Malignite Eccoli 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 Non riuscivo a mettere gli igniter In range troppo lontano 0-3 2-5 0-7 5-7 Taric 2-0-3 Tutto rispetto eh Taric ce la sta mettendo tutta Ma un team è veramente pessimo Però se hai Taric È ovvio che non vai male Ciao MZ Buonanotte Adesso andiamo a mid a picchiarli tutti Eh beh certo bollone Eh no Broia Eh Skyfax Quindi tanto bisogna farlo Beh è vero che non vanno su di lui Eh e invece è finito Eh Ho montato il volante Vabbè non ci arrivo Io sono body bloccato Dai miei stessi minion Ma basta tirarmi cose Eh Guarda che danni raga Che fastidio si inged ragazzi È bellissimo È bellissimo Guardate quanto fastidio che dà Eh Eh stavolta muore anche lui Eh sì Soltanto il grande fieri che Poteva killare Uno bravo come Taric Diciamoci la verità Eh sì Angurio Finalmente Taxi al 16 stack Potente Meraviglia Meraviglia Singed Tanuki di cosa parli? Oh meno male che muoiono un po' Perché insomma Altrimenti Anche la termina Live In teoria dovrà Dove dopo questa Sono le 11.40 Ma sì Tanto Chi me lo fa fare Di andare avanti ancora Manco diventassi milionario Con un game in più Senti come dire Ho 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 Tuck Scambio Eh Fenix C'hai ragione anche te però Però insomma Non è il caso Allora Tempo di fare l'inseguimento Con le Twin Shadows Però Deve essere Sulla persona giusta Adesso Sì Sì Dove sta andando? Da nessuna parola Meme Ecco Oh Eh Bravo Twitch Prenditi il veleno Eccoli Dai Con quanta vita è rimasta In juice Ok Ok Borvello L'ho ucciso io No Whipsinged 11 tra 10 Onesto 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 Tra il mondo E niente E niente C'è un go Io non conosco No Fairytale Ma è un sub in più Posso fare un saluto in più Perché c'è un bo Io lo do a Olaf Perché ho visto delle ulti Veramente spettacolari Da lui Giocate benissimo Alla meglio Eh no Calma eh Per favore Insomma È possibile Perfetto Quei cazzo è tremendo Ma è sempre così Cazzo era un minion Sì Perfetto Cioè Quei danni con cazzo pia Sono veramente Rente pochi